Ancora cordoglio e commozione qui ad Asti per la scomparsa dell'architetto Fabrizio Gagliardi morto venerdì all'ospedale Cardinal Massaia dove era stato ricoverato per un male incurabile. Due mesi fa i primi sintomi aveva compiuto 41 anni ad ottobre. Da circa due anni era il presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Asti e responsabile dei beni culturali dell'ufficio tecnico della Diocesi. Si era occupato della progettazione del recupero del grande complesso di San Giovanni fra la Cattedrale e Via Natta di cui era il direttore dei lavori e assistente del professor Tosoni alla Facoltà di Architettura dell'Università di Torino. Fabrizio Gagliardi che abitava in Via Dettoni lascia il papà Franco, la mamma Flora Lazzarini e il fratello Fabio. Stupore e vivaci commenti soprattutto negli ambienti politici astigiani alla notizia dell'arresto avvenuto a Roma di Carlo Ferrigno, ex prefetto di Asti. Ferrigno era stato ad Asti dal 4 febbraio del 98 al maggio del 2000. L'accusa per Ferrigno è di millantato credito per aver promesso agevolazioni nella pubblica amministrazione in cambio di prestazioni sessuali anche di minorenni. Ferrigno era anche stato ascoltato come test nel caso Rubi. Ed un giocatore dell'Asti Rugby e suo padre non potranno andare allo stadio per due anni. Lo ha disposto con un'ordinanza d'aspo il questore di Asti. Rosario Sciortino, di 21 anni, aveva aggredito a calci e pugni un compagno di squadra nel corso dell'incontro del 12 dicembre scorso. Il papà Francesco Sciortino, di 48 anni, dalla tribuna lo aveva incitato e quindi anche lui è stato condannato. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Samantha Artusio, 28 anni, abitante ad Asti. La giovane, bloccata mentre stava rincasando, era da tempo ricercata dovendo scontare sette mesi di reclusione per furto aggravato. L'Artusio è stata associata al carcere femminile di Vercelli. E dopo un rocambolesco inseguimento, i carabinieri hanno recuperato merce rubata per un valore di oltre 100 mila euro. Dai magazzini della ditta di autotrasporti Guido Maggior a Montaldo Scarampi, due ladri si sono portati vivi a 57 televisori, 670 telefoni cellulari, 48 macchine fotografiche e 6 videocamere. Scattato l'allarme, i carabinieri hanno intercettato un Fiat Ducato bianco in corso Savona e iniziato un inseguimento che si è concluso sull'autostrada per Torino, quando i banditi hanno abbandonato l'automezzo e sono fuggiti a piedi in prossimità del casello di Villanova d'Asti. E con questo da Asti abbiamo concluso, restituiamo la linea allo studio. a presto. Perchè